Il credo ai ladri e spari in aria ma erano operai, denunciato 43enne di Sarego. Scatola il 15 novembre alla stagione dei pneumatici invernali su autostrade e molte provinciali. Un test in 10 negozi di abbigliamento e Vicentino boccia l'eccesso di aperture festive, dimezzando le domeniche incassi invariati e costi dimezzati. Il comune di Bassano pronto a mettere in campo una serie di iniziative per il rilancio del centro storico. Vicenza calcio battuto a Cagliari ma non schiacciato, decidono due gol nati da calci piazzati. Il mister Marino ugualmente soddisfatto della prestazione ma perde per infortunio Galano ed Elia.